Siamo qui con Laura Grimmeyer, un commento caldo su questa partita? Eravamo, non lo so, emozionanti dopo la partita in Soccarta e quando loro sono andati qua siamo pronti per confrontarli. Un risultato tra l'altro molto buono? Sì, tre set sempre buono, meglio di quinto set o golden set quindi sono contenta. Cosa è stato il vostro punto di forza oggi? Per noi il muro in difesa era più importante, l'altra volta non era così buono ma adesso abbiamo fatto bene. State ritrovando una certa sintonia e il vostro gioco di sempre? Sì, dobbiamo essere pronte per tutto, per chiunque di entrare, abbiamo fatto molto bene. Quindi i vostri obiettivi sono sempre gli stessi e andate sempre a raggiungerli? Ogni partita a volta. Va bene, grazie. Grazie.